Abbiamo qui oggi un nostro mito, un cantante, signori e signori, direttamente dalla metropolitana di Milano, Metroman! Ciao, ciao. Ciao Metroman, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Bene, bene. Ascolta, mai pensato di candidarti il sindaco di Milano? Sì, ci ho pensato, insomma, ormai ho il consenso popolare. E dopo Berlusconi, a Milano, un famoso che c'è? Io, capito? Ma perché la metropolitana? La metropolitana è perché voglio partire dal basso, perché sono l'artista della gente. Sei venuto in metropolitana oggi? Sì, sì. Ce l'hai biglietto? No, entro dagli handicappati. Ah, ok, direttamente dagli handicappati. Metroman. Io ho origini peruviani, ti crea dei problemi? No. Hai dei problemi metropolitana con i peruviani? No, no. No, dato che ci sono bisogna integrarli, capito? Certo, certo. Ho notato che tu hai sempre gli occhiali. Nessuno ha mai avuto l'onore di vedere i tuoi occhi. Eh, sono un miope. Sei mio? Sono la vista questi. Quindi non possiamo noi vedere gli occhiali? Alla fine vi farò vedere gli occhi. Alla fine vedremo anche gli occhi. Gli occhi. La tua mossa famosa, che conosciamo tutti, è quella del palo. Del palo, è andato giù. Ma come fai a gestire il culo che esce dai jeans? Il classico sorriso dell'idraulico. E lì metto, siccome c'ho le monete che mi cadono giù tutti i pantaloni, allora metto una mano sul palo e una mano dietro, così non si vede. È un ragazzo che emana molta energia come tutti gli artisti. Spiegaci un po' questo concetto di subliminare. L'artista, il compito dell'artista è quello di sublimare l'amore. Sublimare, ok. Le canzoni le scrivi tu? Scrivo anche canzoni. Scrivi anche canzoni. Titolo di una canzone che hai scritto? L'ultima? Ah, la farfalla. Ah, la farfalla. La farfalla, la farfalla. Sono canzoni sociali, sono canzoni contro la droga, contro... Sono tutte contro, contro la droga, contro i razzi contro, sono tutte contro. Un po' rivoluzionario. Facci un pezzettino se puoi. Ok. Ancora girerà su quella dondola che sembra libera, chissà se volerà. Per me la musica, quella farfalla che mi rende libero, mi rende uguale a te. Cazzo, la musica... Quella farfalla che la rende vergine, sopra le nuvole. Bene, bene, benissimo. Per me la musica. La farfalla, bellissimo. Quello che mi chiede è come può uscire la tua mossa del palo con la farfalla? Eh, la mossa col palo con la farfalla non è che ci azzecca molto. Il palo, diciamo, la metropolitana mi serve per poi far conoscere le mie canzoni. Per far poi conoscere la farfalla. Certo. Io ho saputo una cosa di te. Sì, quale? Tu mi hai fatto il provino nel Grande Fratello. Sì. Come cazzo è che non ti hanno preso? Eh, non mi hanno preso perché sono troppo intelligente per fare il Grande Fratello. Questa è una bella risposta. Che cosa ti sei presentato al Grande Fratello? Così, come... Hai fatto una canzone? No, no, no. Mi ha fatto un'intervista, mi ha chiesto... E non ti sei giocato un pezzo tuo? No. No. Cazzo. No, perché no. Però ce lo giochiamo adesso. Ok. Cosa vorresti vedere ai tuoi video? Che cosa ti piacerebbe vedere? Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. E quindi noi ci vediamo il nostro uomo tigre. Uomo tigre. Vai. Grande, metroman. Mecchi. Questa è un'altra perla. Sonitario della notte ma se non contri i grandi... Non rire. Che gente. Tigre. Tigre. Il tigre. Tigre. Il tigre. Tigre. Ti non vado a cosa. L'uomo tigre. C'ho tanti amici, è grande la città, ma con il nemico c'ho piena età, grazie, applauso finale, buona domenica! Come mai l'uomo tigre? Ti senti un po' l'uomo tigre solitario nella notte? Sì, perché l'uomo tigre stava da solo, capito? Tu ti senti un po' come tutti gli artisti un po' solitario? Ma se vuoi fare successo devi stare solo, capito? Lo sguardo della tigre ce l'hai sotto quegli occhiali o no? No, io sono più leone, capito? Spiegaci perché non togli mai gli occhiali, dai! No, va bene, li tolgo, non è che... Perché sono mio, perché mi dà fastidio la luce! E anche dei begli occhi, metromer! Sì, sì, gli occhiali li metto, i Ray-Ban sono i miei occhiali! Anch'io, usiamo solo io e metromer, usiamo solo Ray-Ban! Perché fai metromer, bravo! Perché voglio fare una rivoluzione! Del tipo? Del tipo lanciare un uomo nuovo! L'uomo nuovo! Cioè, a Milano non l'uomo manager, ma l'artista! Un uomo nuovo! Un uomo nuovo! Perché c'è bisogno di un uomo nuovo! Un uomo nuovo! E oggi noi abbiamo conosciuto, conosciuto un vero uomo nuovo uomo che si chiama Metroman! Metroman, ma tu quanto realmente cucchi? No, cucco, cucco! Cucco? Ma fammi un esempio! Riscchio, capito? Io rischio! Raccontaci una storiellina, non so, un giorno... Anche in metropolitana, io a volte me ne sono fare anche... ho avuto storie anche dentro la metropolitana! Sfrutto la prima impressione, capito? Dici... The first impression, è la più importante! La prima impressione è quella che conta! Certo! Ho cinque minuti a disposizione nel vagone, capito? E quindi devo subito sfruttare la prima impressione! Tutto in cinque minuti! Tutto in cinque minuti! È un po' come... Cioè, il sesso è un binario che entra nella galleria... Io c'ho un treno... First impression! Questo, ricordatevi! È la più importante! Cioè, bisogna essere... Sono bravo ad attaccare bottone, capito? Poi... Cioè, quando tu ad esempio vedi... Che ne so, su seconda mano, no? Ci sono gli annunci delle prostitute, no? Ma preservativo o a spirale? Preservativo! Preservativo perché bisogna proteggersi sempre! Sempre! Ma tu ce l'hai su anche adesso? L'hai... Adesso no! Ma che sai io cosa faccio? Io la mattina... E tu lo metti sopra! Io me lo metto! E fai bene! Certo! Adesso, ovviamente, un po' mi sta dando fastidio perché... Fai bene! Senti come fa! Sì, sì! Senti, senti! Però, a me piace, che a me piace poi toglielo col cappuccio proprio... Sì, sì, sì! Che spara da perfetto! Che fai bene! Poi ho capito che nel sesso... Non fatelo a casa perché... Nel sesso anche si può rischiare, però bisogna sempre usare... È meglio fare il sesso sicuro perché poi dopo ti vengono i complessi, capito? Poi, chissà chi cazzo è... L'AIDS è una malattia invisibile che non si vede... Certo! E quindi... Perché poi se lo fai senza, dopo ti vengono i sensi di colpa, capito? Chissà chi è, chissà chi la conosce... Siccome io faccio sesso con tante donne, rischio anche... Cioè, io faccio tutto bene, capito? Non bevo, non fumo, non mi drogo, non... Però, a parte, vabbè, si vede che sto bene, insomma... Sì, infatti, vediamo tutti che metroman sta bene... Si vede che sto bene, che non so mai... No, no, infatti... Tu hai avuto sempre donne belle, da quando comunque sei metroman? No, no! Anzi, più brutta è meglio è, capito? Cioè... A me piacciono le persone intelligenti... Anche perché le fighe sono capaci tutti a farsele, le brutte... No, le brutte... Io piaccio alle normali, alle ragazze normali, a quelle normali... Quelle belle... Sì, vabbè, mi piacciono, però... Bella ma sciocca, capito? Non è che mi piacciono tanto... Ora ti voglio chiedere una cosa... Una cosa che tutti gli utenti avrebbero voluto chiedere, ma nessuno ha osato postare... È questa... Oggi è veramente il tuo compleanno? Oggi sì... Oggi... Perché io sono come il coniglio di Roger Ra, capito? Oggi è il mio compleanno... Buon non compleanno... Oggi è il mio compleanno, così mi pagano di più, capito? Oggi è un giorno... È il mio compleanno e mi danno più soldi... Grande, metrome... Auguri... Ciao... E vivi sempre così... Preservativo sempre... Sempre... Indossato e allacciato bene... Anche il giorno... Sono maledetto... Ciao... Ciao, metrome... Cazzo, quanti saluti... Facciamo il palo... Tubo... 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 Grazie a tutti.